Abbiamo radici fiorentine e una vocazione internazionale e vogliamo offrire ai nostri clienti la possibilità di proporre opere di ogni provenienza geografica selezionate per la loro qualità ai collezionisti italiani e stranieri che seguono le aste a Firenze. Tra i nostri successi l'allegoria della pittura di Bernardo Cavallino, un quadro acquisito a Napoli e venduto a Firenze a un'istituzione internazionale. O il prometeo di Pietro Novelli, un quadro dipinto a Palermo ritrovato in Lombardia e battuto a Firenze a oltre 100.000 euro comprato da un collezionista inglese. a Firenze a Firenze. a Firenze 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 a Firen